Buongiorno a entrambi. Ecco, io chiederei subito un commento, intanto su queste immagini che lei avrà visto sicuramente e poi sulla questione morale in politica in queste zone del Paese, perché c'è più di un sindaco arrestato, purtroppo sono anche donne oggi, è il giorno delle... Certo. Oggi, prima di tutto dobbiamo dire che qualcuno pensa che siccome sono primarie del PD sono un problema del PD, invece quello che accade nelle primarie del PD deve preoccupare anche noi, perché io immagino che colui che stava dando soldi fuori al seggio per far votare delle persone voglia qualcosa in cambio e magari è un appalto sull'asilo di mio figlio, un posto di lavoro nell'ospedale dove ricoverano mio padre e quindi si innesca un meccanismo che se il buongiorno si vede dal mattino e queste sono solo le primarie per il Comune di Napoli, immagino cosa succederà al Comune di Napoli se dovesse essere eletto il PD. In generale sulla questione morale, il problema è semplice. Io chiedo ai cittadini in generale di ribellarsi a queste dinamiche anche gli elettori del PD che sono andati a votare alle primarie con tanto entusiasmo hanno tutta la mia solidarietà, però adesso si devono ribellare perché l'anno scorso è successo con i cinesi in Liguria quest'anno succede un'altra volta con questo fatto dei soldi fuori ai seggi queste dinamiche qui non ammazzano solo la democrazia non è solo un concetto ideale e nobile è anche un concetto materiale perché sono frutto di dinamiche poi di scambio di favori e i favori si fanno sulla pelle della sanità, degli appalti pubblici e quindi della vita di tutti i giorni. Una cosa proprio veloce, lei prima diceva una cosa gravissima in conferenza stampa come rappresentante delle istituzioni che addirittura certi partiti politici si dividono in correnti in base a come si divide la camorra in questa zona. Noi oggi qui abbiamo mostrato una mappa del potere che poi spiegherà benissimo la magistratura quindi ci affidiamo a loro semplicemente qui a Casavatore dove ci troviamo ci sono i scissionisti e i girati lei conosce bene quello che è accaduto nella camorra e le varie scissioni così come si erano scisse queste due parti della camorra sostenevano due correnti politiche di questa città una era afferente al centro-sinistra e una al centro e tiravano e spingevano per questi loro rappresentanti allora a me hanno sempre insegnato che esiste uno Stato esiste un antistato che è la criminalità organizzata oggi i partiti politici a partire da Casavatore rappresentano lo Stato o l'antistato e secondo me si dividono solo così non esiste più centro-destra o centro-sinistra esiste chi rappresenta la democrazia e lo Stato come lo conosciamo da migliorare e chi rappresenta le organizzazioni criminali su questo dubbio vi lascio grazie